rinazina spray nasale metti a fuoco fantastico con una fazolina tutti i farmacisti vi diranno brucia il naso rovina non è vero cazzo è un prodotto prodotto veramente fantastico non dovete abusarne logicamente però è inutile che uno con raffreddore si tenga il naso chiuso ve lo aprite è un vaso costrittore una fazolina poi se la cosa si riverifica andate da un autorino capire da quale cazzo di motivo vi si chiude il naso possono essere turbinati può essere un'anomalia del setto però rinazina vi salva sempre la vita rinazina spray nasale costi chi è un pochino chi la produce c'è neanche scritto comunque è un grande prodotto grande unico